Buongiorno a tutti. I servizi di informazione e di sicurezza sono una parte importante dell'ordinamento di una nazione. Servono all'attività del governo, ma servono a tutte le istituzioni. In Italia una legge del 2007 li ha notevolmente riformati, una legge approvata da maggioranza e opposizione dell'epoca, stabilendo in modo chiaro i compiti sia degli apparati più probabilmente tecnici, sia dell'autorità politica istituzionale che dà le indicazioni che poi vanno realizzate. In base a questa legge, responsabile dei servizi di informazione e di sicurezza, quelli che una volta si chiamavano i servizi segreti, è il Presidente del Consiglio che però può delegare questa sua funzione o a un ministro che si occupi soltanto di questo o a un sottosegretario. Quasi tutti i governi, dalla riforma fino a oggi, hanno visto al proprio interno l'esistenza di un'autorità delegata distinta dal Presidente del Consiglio. Fa eccezione l'attuale governo, anche il precedente, diciamo che da quando il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Conte, non è stata istituita questa autorità delegata e i compiti di coordinamento dei servizi sono rimasti in capo al Presidente del Consiglio. Si tratta di un'attività molto delicata e anche impegnativa e delle due l'una o il Presidente del Consiglio in carica non ha molto da fare nella sua giornata e allora può dedicarsi con l'impegno che merita al coordinamento dell'attività dei servizi oppure, come mi pare sia evidente, è molto impegnato in tante incombenze e allora questo significa trascurare l'attività dei servizi e soprattutto il loro coordinamento politico e che si versi in questa seconda ipotesi è, ahimè, confermato dai disastri che ormai si susseguono su questo fronte, l'ultimo dei quali riguarda la vicenda del sequestro del peschereccio italiano da parte di un gruppo di criminali libici. Il rispetto delle istituzioni esige rispetto delle regole fondamentali e non è un optional per nessuno a cominciare da chi queste istituzioni le guida. Non è qualcosa che è sempre recuperabile quando dura così a lungo e non è qualcosa che può essere coperto con discorsi più o meno solenni, fatti più o meno di belle parole. È qualcosa che riguarda l'operatività quotidiana e che esige scelte coerenti con il sistema. Buona giornata a tutti.